Alcuni dei punti programmatici del 5 Stelle sono inaccettabili, alcuni dei punti programmatici della Lega sono ancora più inaccettabili e quindi bisogna andare a vedere queste carte, ma un partito che si dà una funzione riformista, una funzione nazionale, deve comunque non dire staremo all'opposizione, ma andremo di volta in volta a vedere la carte e appoggeremo quei punti programmatici, quelle politiche, se sarà necessario, che servono al Paese, che servono a migliorare la vita dei cittadini, questo bisognerebbe dire, non staremo all'opposizione, ma vedremo le carte e potrebbe persino essere che ci sarà la possibilità di stare al governo, di stare al governo facendo cambiare il programma a quelli con i quali si starà al governo. Questa secondo me è una posizione effettivamente riformista, cambiare le riforme che gli altri vogliono fare, che non sono brutte riforme, cambiarle in meglio con un'elaborazione culturale e non solo politica, che riesca a dire al Paese che questo è quello che voleva il PD, questo è quello che si è riuscito a raggiungere, ovviamente nei rapporti di forza che ci sono, che sono stati in una certa misura delineati dall'elettorato. Non si può ripetere staremo all'opposizione, bisogna invece dire cercheremo di fare il possibile non solo dall'opposizione, ma eventualmente convergendo su quello che una maggioranza con la quale il PD abbia dei punti di convergenza riuscirà a fare. Credo che bisogna dire che quello che conta è che cosa verrà fatto e quindi che cosa servirà al bene dei cittadini e al bene del Paese. Questa è l'affermazione iniziale e poi si va a vedere se ci sono delle convergenze e quelle convergenze verranno sfruttate. Il resto credo che sia una pessima forma di rappresentanza politica di quei più di 6 milioni di elettori che hanno scelto il PD ma non dicendo ti scegliamo per andare all'opposizione, ti scegliamo perché speriamo che tu vada al governo e adesso che non ci sei vogliamo vedere come te la cavi. Spero che i dirigenti del PD e non solo loro cercano di fare vedere come sanno cavarsela, come sanno uscire dall'angolo nel quale si stanno precipitando loro stessi e come influiranno sui destini e sulle politiche di questo sventurato Paese. Grazie.